Conque ultime notizie, finalmente arrivati in Italia alla pillola per dimagrire. Bello! Anche perché parliamoci chiaro, capitato? Eh. Oggi se fisicamente non sei in perfetta forma... Che succede? ...hai difficoltà anche a trovare un lavoro. Chiaro. Pensate che un mese fa andai alla Rai per fare un provino per un posto al sole. Come mi vorrei te ricettare ci dispiace, ma ho capito che già stai un po' a canale. Che poi, signori miei, a quel punto fui costretto ad andare dal dietologo. Come entrate al dietologo e esclamai, dottor, ho la pancia gonfia, come mai, è piena d'aria? Le risponette, voglio, in Mosca si possono coppallare. No, a loro non ne ha. Dottor, mi dice, ma parliamoci chiaramente. Molti mi hanno detto che se bevo molta acqua posso diventare bello. Le risponette, dipendo, voglio, se ha quel lutto, la tiene qualche sporanza. A quel punto mi guardò negli occhi e disse, ora ti prelevo il sangue. Ti prescrivo le analisi per l'ABS. C'è tutto, scusate, ma che c'è? L'ABS è un sistema di frenato. Appunto, voglio, quando vi do il frigorifero, invece di tutto, a cacapain, ci chiede il frenato poi. Comunque ora ti prescrivo una bella dieta. A colazione due fette biscottate, niente meno, ma forse ogni mezz'ora. A mezz'ora una bella banana. Dottor, posso essere la banana? Posso mangiare una fette di melone? Sì, basta un tagno a tutti gli scotti. A pranzo, 80 grammi di riso in bianco e la verdura bollita, niente meno. Ecco te, che l'epatite è virale. Posso dire, voglio, con l'epatite per dissi un piloio. A pomeriggio un'altra banana. E a sera mi faccio un coppano che portano con l'ucape e spavano a pizzo. E chi mi ha da pigliato? Per nascire. A quel punto il dietologo come alternativa mi diede la dieta dissociata, che consiste in un primo a pranzo e un secondo la sera. Buono. Ma non specificò le quantità. Ma mangiare in ruota, sai, nel pasto fu. Mezza vacca, che patana, l'ucape e tutti i ricchi. Tutti i ricchi. A quel punto dopo dieci giorni tornai con dieci chili di più, mi ha detto la dieta mediterranea. Ma non spiegò che significava. Così che in un'altra me ne mangiavo quattro braciola e mi tuffavo in dall'acqua. Incazzato nero, tornai dal dietologo e ho detto, dottore, voi mi state prendendo in giro? Che è passato un mese e non hai già perso neri? Ho detto, non esattamente, voglio qualcosa da perso. Che cosa, dottore? 700 mila lire, passo per la segretaria. Signori, sei costretto per me. No, 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 no.